L'Universario, dovresti indicare una priorità da qui alla fine? No, la priorità è il 3 luglio, che saremmo pronti, non ci sta, una priorità quotidiana. 3 luglio dobbiamo essere pronti su tutto, saremmo pronti. 128 nazioni, migliaia e migliaia di atleti e non possono che essere i giovani e i giovanissimi della nostra area metropolitana protagonisti di questi eventi. Oggi abbiamo coinvolto pienamente i dirigenti scolastici, ci saranno tante promozioni e tante modalità per far partecipare gratuitamente i nostri alunni e le nostre alunne a tutti gli eventi che si terranno dall'inaugurazione del 3 luglio alla cerimonia conclusiva in Piazza Prebiscito del 14 luglio.